Calefi Siamo ormai più di mille dipendenti distribuiti tra la sede italiana e le filiali estere. Commercializziamo in più di 70 paesi e il gruppo è costituito ad oggi a più di 15 società e due uffici di rappresentanza. I stabilimenti produttivi sono tre e tutti e tre collocati nella provincia di Novara. Negli ultimi anni il modo di progettare e realizzare edifici è notevolmente cambiato e avendo la fortuna di avere molte filiali all'estero è già qualche anno che abbiamo ricevuto input soprattutto dalla filiale nordamericana, australiana, olandese nella richiesta di modelli dei nostri prodotti BIM, per cui modelli 3D intelligenti che non sono altro che la digitalizzazione del prodotto reale per cui una copia virtuale di ciò che produciamo noi, per cui valvole che si portano appresso tutta una serie di informazioni fondamentali per il progettista per cui informazioni sia di tipo tecnico riguardante il funzionamento, sia di tipo costruttivo, piuttosto che riguardante le garanzie, le manutenzioni. Dopo aver parlato con diversi progettisti abbiamo capito che il software più utilizzato per questo tipo di progettazione è il Revit Map per cui abbiamo deciso di modellare le nostre famiglie nativamente in Revit. Questo ci permetteva di mantenerle più leggere a livello di peso e di inserire la quantità di dati che si portano appresso questi modelli necessari alla corretta modellazione del prodotto. Per la formazione, consulenza e assistenza in questo progetto ci siamo avvalsi della collaborazione di Man & Machine che è il nostro partner storico per tutte le soluzioni Autodesk in azienda. Soprattutto la parte di consulenza riguardante la formazione delle persone, il reperimento del software adatto alla realizzazione di questo progetto e in seguito anche la promozione del progetto stesso. Abbiamo installato delle postazioni Revit all'interno della nostra azienda, all'interno del nostro ufficio tecnico e formato due persone che si occupano nello specifico della realizzazione delle famiglie. Realizzando in questo modo le famiglie, il progettista ha la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità del software per cui oltre a chiaramente l'ingombro di un modello 3D che si porta dietro tutte le informazioni geometriche del prodotto la possibilità di simulare situazioni reali e così di ottimizzare sia il dimensionamento che la scelta del prodotto più ad alto alla sua esigenza. In questo momento tutte le nostre famiglie sono disponibili su tutti i siti Caleffi e in più a breve pubblicheremo queste famiglie su portali specializzati che si occupano proprio di progettazione impiantistica dove i progettisti cercano le famiglie da inserire nei loro progetti. Chiaramente contando più di 5.000 articoli a catalogo abbiamo dovuto fare una selezione dei prodotti che più si addicessero a questa tecnologia e che più avesse senso produrre in formato virtuale, in formato digitale. Le richieste che ci arrivano nelle ultime settimane dall'Italia ci fanno pensare di essere sulla strada giusta per cui saremo sempre più impegnati a fornire ai progettisti degli strumenti adatti che possano migliorare la qualità del lavoro ma soprattutto garantire insieme alle nostre famiglie utilizzandone nel processo BIM una certezza di tempi e costi della realizzazione dei cantieri. Grazie per la visione! Grazie per la visione!